amici di cavallo magazine all'ingresso di fiera cavalli verona trovate il grande padiglione di cap italia come vedete luminosissimo siamo con l'elia ciao lelia tante le novità che hai portato qui in fiera tre collezioni in particolare sì sono tre collezioni che riguardano dei pezzi di inserti anteriori dei nostri caschi che sono stati fatti con rivestimenti particolari di pelle poi fatti a imbossi quindi a rilievo è una tecnologia nuovissima particolarissima dove abbiamo voluto un po spingere quello che è il colore il cavallo i cavalli e dare anche una filosofia di vita dietro tutto ciò perché è importante anche capire perché ci vogliamo mostrare in questa maniera c'è ad esempio il modello pegasus che è questo dove abbiamo voluto mettere la foto cioè l'immagine di un cavallo una testa del cavallo e vicino c'è anche la piccola testa del cane perché il cavallo e cani sono amici quindi e volevamo li abbiamo espressi in quattro tonalità di colori diversi perché a ognuno il proprio quindi ognuno può scegliere assolutamente quello che preferisce l'abbiamo titolato pegasus e perché perché liberi di volare un bel messaggio un bel messaggio sì quindi per le persone che hanno voglia di esprimersi in questi termini facendo riferimento poi al cavallo pegasus che c'è una storia dietro questo sicuramente è una maniera di interpretare se stessi in quello che anche il proprio casco e quindi liberi anche di combinare colori come si vogliono anche perché l'equitazione bella in funzione di quello che anche la tua voglia di essere e questo per me è fondamentale aiuta proprio esprimersi sempre di più proprio personalizzando e andando ad assemblare i pezzi sì noi abbiamo circa 12 mila possibilità di combinazione di caschi quindi ognuno può fare quello che vuole con soprattutto la cosa più importante più magica è quello che non deve neanche aspettare tempo perché anche in un paio di giorni noi te lo possiamo fare questa è la cosa vincente poi parlando sempre di collezioni abbiamo fatto un'altra linea sempre similare a questa che si chiama vikings che poi ti farò ti mostrerò per vedere che rappresenta invece una serie di cavalli perché i cavalli rappresentano vikings chiamati così per l'audacia di quelli che sono i vichinghi e la forza il coraggio quindi anche questa è una maniera di interpretare alle persone quello che veramente si sentono infine la terza collezione invece che è Milano invece che è lo stile cosmopolita in pratica Milano è la città del design della moda siamo il numero uno al mondo in assoluto quindi abbiamo voluto creare un casco con una finitura particolare di embossed che ormai è stravincente che veramente possa interpretare il design di quello che è la volontà di essere un qualcuno di distinguersi con cose però di un certo livello perché ci piace creare quello che è design e ci piace creare quello che è la capacità di mostrarsi in maniera diversa